Ehi ragazzi di ShotTrenic, finalmente ragazzi è arrivato il nuovo pannello solare in questo video vi farò vedere come ho creato insieme a mio padre una staffa fai da te questo è tutto quello che ho usato, alla fine due sbarre di metallo lunghe un metro e una sbarra AL multiforo con tanti fori allora innanzitutto con mio padre abbiamo tagliato le due sbarre da un metro le abbiamo tagliate della giusta misura perché praticamente mi servivano quattro sbarre in tutto due un po' più lunghe di circa 60 centimetri e le altre due appunto di 40 più o meno centimetri dopodiché abbiamo tagliato anche la sbarra L della giusta misura anche se poi alla fine abbiamo utilizzato la sbarra più lunga dapprima volevo utilizzare la sbarra più corta ma poi abbiamo notato che non andava bene per via delle distanze, per via della distanza che deve avere il pannello dall'altro pannello comunque sia abbiamo disposto le due sbarre da 60 centimetri sul pannello e abbiamo segnato i punti in cui creare i fori in modo che poi insomma potevamo mettere giustamente i bulloni per avvitare la staffa fai da te al pannello ovviamente fatto tutto in modo diciamo un po' approssimativo però è andato tutto sommato abbastanza bene a questo punto abbiamo usato un punteruolo per creare dei diciamo punti di riferimento per la punta del trapano in modo tale che ha diciamo un punto guida altrimenti non è per niente facile forare il metallo nel punto giusto e senza grosse difficoltà abbiamo fatto i vari fori in tutto erano credo 14 fori in tutto dopodiché abbiamo disposto le sbarre sul pannello e abbiamo notato che però i fori non andavano bene abbiamo quindi deciso di allargare i fori con una punta più grande e per risolvere il problema del foro grande metteremo poi delle rondelle a questo punto come potete notare i bulloni a vite entrano a questo punto però dobbiamo forare le sbarre in modo tale da creare questa figura diciamo così quindi con mio padre abbiamo segnato i punti in cui le due sbarre devono poi essere di nuovo posizionate in modo che non vengono storte quindi abbiamo segnato la posizione attuale delle due sbarre e poi abbiamo segnato i punti in cui creare i successivi fori quindi un foro sopra e un foro sotto ovviamente dobbiamo forare entrambe le sbarre e una volta creati i fori abbiamo notato che stavolta ci abbiamo azzeccato a primo colpo tutto con base alla perfezione siamo stati parecchio fortunati e a questo punto abbiamo provato a mettere i bulloni abbiamo visto che funziona che riesce che tutti entrano e quindi abbiamo deciso che potevamo stringere i bulloni a questo punto abbiamo creato un altro foro sulla staffa L perché non combasciava purtroppo con la staffa di supporto che abbiamo comprato abbiamo poi colpito e ammartellato la staffa L perché aveva l'angolo a 90 gradi e a me in realtà però serve un angolo di più o meno 40 gradi a questo punto come potete notare abbiamo dato l'angolo alla staffa non più a L però come vi dicevo abbiamo cambiato poi la staffa e abbiamo cambiato la staffa L quella con i multifori abbiamo preso quella più lunga che era rimasta perché purtroppo il pannello stava proprio troppo vicino all'altro pannello come potete notare quindi abbiamo messo la staffa più lunga e adesso va che è una bellezza ho unito il pannello di destra col pannello di sinistra facendo un collegamento a serie praticamente ho preso il positivo del pannello di destra e l'ho collegato al negativo del pannello di sinistra e poi il positivo del pannello di sinistra va all'uscita e praticamente in questo modo ho un pannello da 100 watt invece di due pannelli da 50 ho poi messo quest'altro supporto qui per tenere questo morsetto per tenere due pannelli uniti perché purtroppo era un po' sbilanciato il pannello di sinistra dato che sta un po' troppo buttato sulla sinistra però comunque funziona come potete notare ho anche cambiato i cavi ho messo cavi più grossi alla batteria ho anche messo il fusibile da 30 ampere che vi ho fatto vedere qualche tempo fa finalmente questi sono cavi 8AW non mi ricordo più come si chiamano comunque sono cavi belli grossi ho messo queste clip qua da 40 ampere più che sufficiente dato che io comunque non devo mai superare i 30 e ora che funziona che è una meraviglia andiamo a dare un'occhiata alla batteria tutto sommato è già un bel po' carica però vi faccio comunque vedere come va allora stiamo ricevendo 5A4 da entrambi i pannelli mentre tutte e due i pannelli insieme hanno un voltaggio di 34-33V perché adesso sono messi insieme sono due pannelli da 12V e riceviamo 2A da entrambi i pannelli però poi il regolatore di carica MPPT trasforma questi 2A in 5,25V quindi sono altamente soddisfatto devo dire ok ragazzi niente per ora non ho altre cose da farvi vedere concludo qui questo gameplay e video spero che vi sia piaciuto ragazzi vi saluto ci becchiamo presto ciao alla prossima ciao a tutti 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 Grazie a tutti.